Grazie Presidente, devo dire che pensare di non avere nessuna responsabilità nella faccenda di molti servizi è veramente avere la faccia tosta. Venire qui a parlare di queste questioni dopo aver provocato un disastro in mano in questa città, proprio quando era seduta là sopra, proprio quando era seduta là sopra la consigliera Baglio, oggi veramente da vergognarsi. Detto questo, voglio dire, se vuole te lo leggo io l'ordine dei lavori alla consigliera Baglio perché ci sono due delibere che andiamo a discutere. Per cui non è che stiamo parlando solo di questa mozione, che secondo me è una mozione che oggi dimostra quanto voi siete poco attenti ai lavoratori e al lavoro e quanti disastri avete fatto in questi anni, specialmente col governo Renzi e Gentiloni, sul discorso del lavoro. Noi oggi abbiamo coraggio e voi ne prendete atto e naturalmente apprendete che finalmente in Cristola c'è qualcuno che sostiene battaglie vere, non quelle finte che hanno portato al disastro questa città. Grazie.